Il ministro segretario del partito Alucca per il rapporto delle gerarchie provinciali fra incessanti ardenti manifestazioni al duce attraversa le principali arterie cittadine pavesate a festa per inaugurare la casa della federazione dei fasci femminili della Lucchesia. Nella pinetta di Viareggio una colonna di 12.000 donne fasciste e massaie rurali della provincia spila dinanzi a sua eccellenza Starace. Grazie a tutti!